E' tornato puntuale come ogni anno l'almanacco dell'Entella. La presentazione è sabato scorso in società economica, in un pomeriggio speciale iniziato allo stadio comunale di Chiavari con la vittoria sull'Empoli per 2 a 0. Un risultato che consegna al presidente Antonio Gozzi un altro momento di grande emozione e soddisfazione che sottolinea la storia e la forza interiore radicata in questo club. I nostri tifosi hanno visto l'Entella per l'ultima volta oggi prima di Natale quindi il regalo di Natale gliel'abbiamo fatto. E' stata una partita molto importante per come è stata giocata, per l'autorevolezza che abbiamo espresso, per il totale controllo della partita della partita che abbiamo avuto. Quindi bene, l'Entella cresce e quando l'Entella cresce Chiavari sta bene, cresce anche Chiavari. L'almanacco nella sua intenzione conferma che la Virtus Entella non è solo una squadra di calcio ma rappresenta l'anima di molte persone, restando ancora oggi uno dei capisaldi di Chiavari e testimone di una lunga parte del suo glorioso passato. Chiavari ha avuto un passato glorioso negli ultimi 150-200 anni, forse perde qualche colpo oggi perché la direzionalità che è sempre stata di Chiavari il fulcro, nel senso una direzionalità che ha fatto di Chiavari il capoluogo del Tiguglio purtroppo con la chiusura del Tribunale, ferita mai rimarginata, con la chiusura dell'Agenzia delle Entrate di fatto con una caduta di economia collegata anche a questa assenza di direzionalità perché le attività commerciali ovviamente trovavano ad esempio nel Tribunale un formidabile elemento di propulsione, fa sì che bisogna pensare al futuro stringendo i denti, non dichiarandosi mai vinti. Ripartendo dai capisaldi. Ripartendo dai capisaldi, siamo dentro uno dei capisaldi. Io l'ho detto e lo ripeto, sono molto onorato che da cinque anni la società economica ci ospiti per presentare questo almanacco perché questo è veramente il cuore della Chiavari importante, della Chiavari che hanno fatto le scuole, della Chiavari che ha sostenuto l'economia, della Chiavari di classi dirigenti colte, internazionalizzate che in questi luoghi, in queste stanze hanno costruito veramente un episodio modernissimo, questa cosa della società economica è una delle cose più moderne che io abbia conosciuto, ma non a Chiavari, è nella mia vita. Quindi bello, bisogna aggrapparsi a questi capisaldi. Lentella è uno di questi capisaldi di Chiavari-sità. E non solo attraverso la prima squadra, visto che la società mette in campo 500 ragazzi, impegnandosi nello sviluppo dei talenti cresciuti in casa e producendo valori, stili di gioco e regole di vita. Un volume che fa rivivere tutte le emozioni della cavalcata trionfale della scorsa stagione. L'impresa di Marassi, la partita dell'Olimpico contro la Roma, il gol promozione di Mancosu e lo scudetto della Berretti. Ricordo indimenticabile che il mister Roberto Boscaglia vede per la prima volta fissati e celebrati in un unico momento emozionale, che è il nuovo al Manacco dell'Entella. Il passato è importante, noi siamo frutto del nostro passato. Non va mai dimenticato, va al massimo accantonato quando, ripeto, c'è qualcosa da accantonare ma va ripreso quando ci capita in futuro magari di vivere le stesse situazioni, le stesse emozioni, ricordarsi di quello che si è passato prima. È importante questo, quindi ho visto delle foto, ho visto momenti straordinari, naturalmente il derby col Genova, la partita di Roma, i gol contro la Carrerese, il gol contro la Carrerese, momenti veramente straordinari. Una sezione poi stata dedicata al Tiguglio tra passato e presente, un parallelo di immagini a cura del DLF arricchite dagli appunti storici di Getto Viarengo. Usare le immagini del passato e provare a rifotografare gli stessi luoghi oggi. L'emozione deve dare un risultato. Io ho ribadito più volte questa sera, il presidente Gozzi l'ha fatto anche lui, non ci deve essere nostalgia né sfogliare l'album del Come eravamo, ma ci deve essere il risultato e l'emozione di darsi da fare per il nostro futuro, perché questo ambito nel quale noi viviamo, la città di Chiavari nella quale noi viviamo, è una città che ha sempre avuto una presenza storica straordinaria. Questa storia l'abbiamo sfogliata, questa storia la fermiamo, ma non ci basta la gioia del passato. Dobbiamo assieme riuscire a costruire un futuro a un territorio che molto spesso perde qualche colpo. Il presidente Gozzi ha rammentato le occasioni perse di questo territorio che abbiamo avuto negli ultimi tempi e dobbiamo assolutamente sapere riemergere, come più volte la storia ci ha insegnato, e dare un futuro al nostro Tiguglia, alla nostra città di Chiavari. Quella che certamente rappresenta la strena ideale per il tifoso biancoceleste sarà disponibile presso il Point Entella fino al 23 dicembre e fino al 6 gennaio presso la mostra fotografica di LF all'Auditorium San Francesco di Chiavari. Il ricavato della vendita contribuirà a raccogliere fondi per l'ospedale Gaslini di Genova. Finalità che Sabina Croce, presidente di Entella nel cuore, porta avanti ormai da tempo, testimoniando uno spirito d'insieme che potenzia il mero atto sportivo. Questo almanacco ha dietro tantissimo lavoro, è dedicato in realtà al territorio chiavarese e a tutti i supporter della Entella. Ma alla fine cerchiamo sempre di coniugare tutto questo con la ricerca di uno scopo benefico che è quello che poi in realtà interessa particolarmente l'Entella nel cuore che è far confluire gli utili delle vendite di questo almanacco nell'assegnone che coronerà tutto lo sforzo che facciamo durante il periodo natalizio e che culminerà nella consegna dell'assegno al reparto di neurochirurgia del Gaslini al col quale ogni anno siamo gemellati e per il quale raccogliamo fondi ogni anno. L'almanacco racconta la storia di Chiavari e la storia dell'Entella, mette il punto essenzialmente su quella che è stata la grande stagione dell'anno scorso. Che emozione è quella di vedere queste foto tutte insieme e i momenti così immortalati? Potrei rispondere come con la battuta della nostra piccola tifosa australiana It's like a movie. Questa bimba australiana il cui papà è chiavarese è venuta a Marassi a vedere la partita con il Genoa e impressionata dall'incredibile susseguirsi di emozioni altalene di vantaggi svantaggi, rigori eccetera. A un certo punto si è girata verso il papà e gli ha detto Dad, it's like a movie. È come in un film. E questo tutto sommato per noi vale per la partita di Marassi e valso per la partita all'Olimpico in cui mezza città si è riversata a Roma in uno spirito di gita fantastica perché poi non interessava neanche il risultato, era bello essere lì e a maggior ragione per l'incredibile campionato che abbiamo fatto, la cavalcata pazzesca che si è conclusa sul filo del rasoio con questo gol al novantesimo di Mancoso che ci ha permesso di riconquistare una Serie B che ci era stata ingiustamente negata. Quindi è tutto come in un libro. Come in un film.